ciao a tutti benvenuti a questo video nuovo di composizione digitale oggi abbiamo un ospite su grande schermo che è cristiano orlandi che è l'inventore e ideatore di win italia è la persona semplicemente a quale mi rivolgo ogni volta che devo cambiare sistema o devo aggiornare il mio sistema informatico il mio computer col quale lavoro preciso con il quale lavoro perché quello con il quale faccio alte sciocchezze tendo a separarlo quindi già il primo consiglio che mi sento di dare cristiano è questo qua io pur essendo stato uno smanettone nei limiti delle mie possibilità da quando ho iniziato a fare questo lavoro ho delegato tutto a te cioè non vado a cercarmi cose varie ma chiamo te in quanto più professionista che amico è giusto che si occupi di un professionista di questa cosa ovvero se io voglio ho un problema di con l'idraulica in casa chiamo l'idraulico e non mi metto a fare cliff robinson riparlo solo perché faccio danni prego tantissimo tempo sprego tempo sprego risorse quindi sprego anche denaro alla fine e soldi esatto e quindi questo è il consiglio che do principalmente se facciamo questo come lavoro la prima cosa che dobbiamo imparare a fare è delegare sulle cose importanti e la cosa importante della quale parliamo oggi è siccome sono arrivati parecchi messaggi diverse mail qual è la macchina migliore o il tipo di macchina o le soluzioni informatiche migliori per fare colonne sonore scrivere musica registrare per per l'home studio facciamo la prima domanda enorme che poi mi vedrà su un certo tipo di opinione mia consolidata negli anni mac o pc innanzitutto è una domanda che secondo me non ha risposta perché la macchina per definizione perfetta per fare in questo caso la produzione musicale ma in qualsiasi caso per produrre qualsiasi tipo di prodotto professionale non esiste esiste la macchina che è giusta per l'uso che se ne fa e per il professionista che che utilizza un particolare software un altro esempio nel caso del musicista non esiste la la marca di pianoforte giusta per tutti non esiste la marca di chitarra giusta per tutti esiste la chitarra o il pianoforte che incontrano i gusti o le mani o l'orecchio quello che sia o il colore che 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 uno cerca in quel momento per produrre l'idea che vuole produrre nel caso del mondo dei personal computer mac o pc è una domanda che 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 è trasversale che esiste da sempre storicamente di solito si dice mac per la produzione professionale di grafica e musica solo per una questione di storica una questione cronologica perché i software di produzione musicale grafica di edizione in generale sono nati prima su mac e quindi sono storicamente esistono da più tempo si sono perfezionati prima su mac e poi sono sbarcati su pc quindi se è vero che su mac sono più ottimizzati perché è una macchina che non puoi crearti da solo è una macchina che nasce fatta e finita per funzionare viene accesa e se la compri tu o la compra chiunque altro è la stessa identica macchina mentre nel caso di pc sappiamo i componenti che vengono che vengono inseriti all'interno sono x possono essere di x marche possono essere stati inseriti da x persone quindi le variabili sono infinitamente superiori quindi mac o pc personalmente mac però non è una una risposta che vale in tutti i campi e per tutte le persone quindi chi vi dice compra questa macchina di questo produttore a questo prezzo e sei a posto non hai non hai possibilità di andare a cercare oltre perché meglio di questo non trovi già commette un errore in partenza allontanatevi da chi vi dice così la premessa che devo fare che è dovuta innanzitutto che cristiano oltre essere un esperto di information technologies anzi prima di essere un esperto di informatica è un musicista quindi tutto quello che andiamo a dire non di professione ma sì però ci ci basiamo su di esperienze su con esperienze sul campo insomma la domanda ovviamente è provocatoria mac o pc come cristiano sa io sono uno che ha iniziato con il pc appena ha intrapreso la carriera semi professionale passato al mac per un periodo ho lavorato con entrambe le macchine come si usava inizio anni 2000 molti compositori lavoravano con un mac o con pc contemporaneamente molti fanno ancora così molti fanno ancora così e poi sono passato totalmente al pc siccome molti lo chiedono anche a me io il consiglio che do sul pc sul sistema windows diciamo è un per un motivo ben preciso lavorando e lavorando tutti i giorni e non potendomi permettere di avere un solo giorno di stop lavorando con un pc ho visto che posso aggiornare non tanto il sistema operativo ma i software tutti i vari vst che uso e anche piccoli altri strumenti che che mi occorrono senza dover aggiornare il sistema operativo senza dover per forza fare dei check estremi di compatibilità e senza ecco perdere molto tempo a settare settare le macchine perché ho visto che da un certo periodo in poi con il mac anche tuttora molti amici che utilizzano mac anche su facebook quando c'è un aggiornamento nuovo trovo il post in serie di tutti quelli che utilizzano il mac o almeno di molti di loro devo ristallare a uscito un nuovo logic a non è compatibile questa scheda a devo aggiornare il sistema operativo aggiornare il sistema operativo devo aggiornare magari la ram quindi tutta una serie di sistemi a effetto domino insomma che una volta ai tempi del pre xp diciamo problemi che avevano anche le macchine pc insomma creavano un una corsa al all'aggiornamento insomma all'upgrade dimmi se una sì è vero ed è vero anche nel mondo pc in realtà perché se uno ragiona in termini di macchina la macchina non è mai come la vorremmo quindi quello sempre sempre è sempre una ricerca continua io non lo so ragionerei in termini di scegliere il sistema di produzione musicale mio il software di produzione musicale mio che normalmente una scelta è quella scelta di campo perché se dedichi una vita a imparare più ways o dedichi una vita a imparare pro tools o dedichi una vita a imparare logic non è che scegli mac o pc così con leggerezza so dieci anni che che utilizzo pro tools o logic è la scelta è mac se utilizzi logic a priori comunque è mac c'è poco da cambiare e lì mi porto dietro un bagaio un know how che che è impagabile no perché 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 lavoro più veloce perché conosco conosco gli shortcut conosco il modo di produrre di più in meno tempo si diventa fondamentale tra l'altro sentendo anche altri compositori altri professionisti la scelta del software di solito è dovuta a quello che hanno utilizzato per primo cioè difficile che una persona che ha iniziato con logic poi passa a cubase oppure quindi io l'unico consiglio anche degli schemi mentali sì sì che so quello tanto io faccio su tutti i miei video dico sempre sta cosa qua tutto quello che posso fare per non perdere tempo per risparmiare tempo quindi se utilizzare un software mi fa risparmiare mezz'ora più che un altro utilizzate quello io l'unico consiglio che do sul in generale sul software cubase ma uno perché lo utilizzo da dal primissimo prima ancora che diventasse audio quindi era solo midi seconda perché close platform cioè quindi io posso averlo sia su pc che mac quindi se io esempio cristiano che utilizza mac e io utilizzo pc vogliamo collaborare a un progetto scambiarci i file è un pochino il progetto in senso il progetto cubase è un pochino più semplice avendo una ma un software che posso installarlo sia su pc che su mac mentre logic già quella è una scelta una volta era così e sono non so fino a forse una decina di anni fa poi è diventato solo solo mac insomma per perché è stato acquisito totalmente dalla dalla apple no ok invece comunque questo video io voglio che sia chiaro non è che vogliamo dare anche perché sarebbe impossibile dare risposta però vogliamo far partire dei ragionamenti insomma che poi considerazioni esatto che vi consentono magari di scegliere più liberamente e con più serenità i tipi di compositori che di solito seguono questo canale che mi scrivono sono diciamo di tre tipi lo stra professionista comunque incuriosito dal nuovi vst che vado a recensire oppure da alcuni video che penso siano di interesse comunque per tutti il musicista part time diciamo quello che si sta facendo dei lavori con i quali guadagna anche ma ha comunque un secondo lavoro quindi non si dedica totalmente alla musica e invece il lobbista l'amatore che sono categoria per me più bella perché lo dice la parola amatore che ama quello quello che fa perché non è detto che un professionista poi ami quello che fa anzi alcuni incominciano a odiarlo no piano piano l'amatore quindi è lobbista e o anche lo studente mettiamolo nella stessa categoria è quello che sta iniziando e lo fa per amore diciamo della della materia quindi a questi tre scaglioni corrispondono anche esigenze chiaramente diverse e budget diversi e budget ovviamente diversi perché una persona che guadagna 100 mila euro l'anno facendo musica con il computer ovviamente per lui ho un consiglio per lui ho un consiglio qual è secondo me buono allora investi in un tecnico professionista che si occupa di tutte queste cose e pensa solo a produrre e a pensare la tua musica assolutamente prendo la la penna lo sottoscrivo subito no ma dimentica tutta la parte tecnica cavi cavetti pensa alle tue idee come fa il maestro cristian prenditi un foglio di carta matita gomma componi e poi lui penserà a trasformare suona e lui penserà a registrare a montare a fare se apposta ma anzimer insegna no no ma è vero cioè è una cosa che in italia in realtà non capiamo perché c'è il desiderio di accentrare tutto anche quello che non è nostra competenza cioè io veramente sono un disastro nel fare nel mettere i chiodi in casa io chiamo il suocero chiamo il suocero e mi aiuta no perché per mettere un chiodo e appendere un quadro un quadretto ci metterei comunque due ore distruggerei tutto l'intonaco il muro e verrebbe male poi dovrei comunque chiamare un'altra persona a riparare i danni c'è una puntata di peppa pig che ho fatto papà pig distrugge un muro solo per mettere un chiodo che casca si vede la l'altra parte l'ho visto ho visto peppa pig amici è vero no ma è verissimo quando possiamo delegare e questo è un discorso che faremo magari quando parlerò anche del sito internet molti si fanno i siti da soli che sono una cosa raccapricciante ma non perché poverini non hanno buon gusto ma perché ci sono delle competenze che vanno acquisite e che sostanzialmente non abbiamo con l'avvento dell'informatica della rete e tutto quanto si è passati dal sì io mi sbrigo le cose informatiche da solo a diventare una parte talmente importante della nostra vita che sono accorse delle figure professionali specializzate insomma quindi fortunatamente per noi ma fortunatamente per voi e anche per per chi usufruisce del servizio perché io ad esempio se solo dovessi informarmi attualmente su quale è il pc migliore passerei un mese e non otterrei mai la soluzione migliore come si deve e passerei poi altrettanto tempo a configurarlo lo dico non per incompetenza ma perché pur occupandomi di informatica musicale so che l'aspetto hardware è fondamentale che se ne occupi una persona preposta quindi questo delle gare quindi la categoria top di gamma diciamo è sistemata insomma spenderete comunque meno beh sì assolutamente anche perché poi ogni volta che avete un problema c'è qualcuno che lo risolverà per voi insomma quindi per il compositore quindi diciamo da Hans Zimmer o da Williams a poco sotto a poco sopra ci sono degli delle persone che si specializzano e comunque a parte scherzi c'è un mio amico compositore che un giorno un giorno farò un video anche con lui si chiama Luigi Pulcini che è originario di San Benedetto di marchigiano come come noi ma che adesso abita anche tu lui abita a Los Angeles lui si occupa oltre che di fare il compositore si occupa di fare il tecnico lo specializzato specialista insomma per altri compositori di non solo hardware ma di progettazione del sistema hardware bar software ha scritto anche dei libri molto interessanti su questo argomento quindi nei Stati Uniti è un mestiere quello a parte mentre vediamo le altre categorie chi vuole iniziare quindi ha un budget limitato molti ricorrono al all'assemblato oppure quello che trovano come in offerta da da expert o non so anche lì consiglio desktop portatile cosa è una persona che deve che deve iniziare adesso che ha un budget minimo insomma che consente di lavorare per per qualche anno perché diciamo anche un'altra cosa il mio sistema che dopo vedremo che mi ha consigliato cristiano io tuttora ci lavoro siamo nel 2017 e questo sistema il mio è del 2011 che è un'eternità a livello informatico e tuttora funziona benissimo e non ho dovuto avere un singolo giorno di stop poi mari parliamo del mio sistema vediamo tu cosa consiglieresti chi deve iniziare insomma fatta sempre la scelta quindi del software abbiamo definito abbiamo detto qual è il nostro software io non investirei in un assemblato solo solo esclusivamente perché anche se è vero che i componenti che stanno all'interno di un assemblato spesso sono gli stessi che stanno all'interno di una macchina diciamo di brand noto quello che non compro con un assemblato è l'assistenza fondamentale che che è fondamentale se anche se siamo amatori comunque vogliamo che la macchina continui a fare quello per cui l'abbiamo acquistata fino all'ultimo giorno che la che la utilizziamo perché se rimaniamo a piedi con un prodotto assemblato dentro una scheda presa chissà dove inserita da chissà dove magari da noi magari non bene magari improvvisandoci e generiamo un problema un problema hardware abbiamo speso due volte perché dobbiamo andare a capire perché si è generato quel problema dobbiamo ricomprare quindi rispendere altri soldi per quel componente risultato finale tempo perso e soldi buttati ok fondamentale questo è il primo consiglio enorme che mi ha dato cristiano anni fa perché prima di avere comunque questo sistema avevo un altro sistema di marca ma prima ancora avevo un un assemblato e problemi a non finire ma poi per delle cose magari stupidissime un banco di ram su su quattro poteva creare un problema o un piccolo conflitto con la scheda audio o con una webcam giornata insomma un driver stupidissimo quindi avendo 100 produttori di 100 componenti all'interno di una macchina abbiamo 100 driver che devono interagire tra loro un brand che assembla una macchina lasciamo stare apple che comunque già questo problema lo risolve alla radice totalmente perché ci dà una macchina che quasi non è un computer ma in quel caso specifico è come fosse un un expander quindi nasce proprio per accendersi e funzionare nel caso del brand tutti i componenti interagiscono già già dalla casa madre in fase di setup vengono creati per interagire e in maniera corretta è brand però di default di base è già un lavoro fatto l'accendo e la macchina è tarata per funzionare ok altra breve parentesi sul discorso prima pc e mac il mio consiglio pc era dovuto al fatto che io considero la possibilità di dover voler espandere esatto perché io conosco anche dei compositori che lavorano con lo stesso software non so cubase 5 ipotizziamo che di qualche anno fa con lo stessi vst con la stessa routine quotidiana quindi non hanno bisogno di aggiornare granché allora quel punto è come avere veramente un foglio è una roba che per vent'anni finché non si brucia continua a fare quello che faceva lì esatto infatti il concetto è se non avete bisogno di aggiornare e vi trovate bene e soddisfacente quel sistema per fare quello che fate compratene due esatto quando se ne rompe uno no no ma è verissimo si risparmia molto anche perché non perdo tempo aggiornamenti quindi se uno non ha potenzialità da qua a cinque sei anni di aggiornare niente e oltretutto neanche io faccio aggiornamenti mostruosi insomma se avete una macchina che vi soddisfa e funziona e gira quello va bene e sistemata quindi tornando a chi deve fare il primo investimento non assemblato un desktop o portatile anche questa è una scelta oggi non è più dettata dal prezzo i prezzi dei portatili anche entry level sono sono scesi in maniera in maniera impressionante un po di tutto il settore hardware ti avrete visto insomma che possiamo già acquistare un portatile con 300 350 400 euro insomma una volta questa 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 è la spesa che facevamo per per un buon monitor ok quindi diciamo che se avete necessità di spostarvi magari fate che ne so produzione musicale in movimento o con lo stesso con la stessa macchina fate live che ne so vero importante potrebbe 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 aver senso il discorso portatile se è una postazione fissa ben definita con la sua scrivania il suo monitor tutti i suoi spander ben ben disposti e ben cablati è quasi è quasi ovvio prendere un fisso ok però non è una questione di prezzo è una questione di scopo e a livello di prestazione secondo te ci sono differenze enormi tra un fisso portatile no no anche lì siamo completamente allineati il discorso che facevi tu del dell'espandibilità ma ormai anche pensare a una macchina fissa per dover dover mettere delle schede dentro è una cosa che non esiste più perché quasi tutte comunque le espansioni di tipo hardware aggiuntivo che facciamo a parte ram e dischi e cpu sono esterne ok una volta mettevo delle schede 16 bit o pci dentro dentro la macchina esistono ancora ma non vado a comprare una scheda moto interna certo no chiaro e non è quella la scelta forse io l'unica per chi inizia l'unico propensione per un portatile potrebbe essere il fatto di avere con pochi soldi in più un secondo monitor certo quello si lavorando per le colonne sonore quindi dovendo avere un video sul quale vediamo il punto la scena un altro che ci serve per gestire le tracce per mixer eccetera eccetera io avendo un portatile che ha già in sé il monitor io se acquisto un secondo monitor tutti ormai hanno la possibilità tutti di espandersi uno senza uscita video esatto quindi l'uscita video che ci consente di duplicare il programma di espandere proprio lo schermo quindi questa forse può dire al doppiare o di duplicare sì oppure anche quel caso avete una vi piace però già stiamo salendo di tipologia di utilizzatore mi piace creare una postazione con con più schermi tutti uguali a volte si mettono vicini no due schermi tre o quattro a seconda di di quante di quante tracce di quante informazioni dobbiamo visualizzare anche lì lo schermo del portatile io so di molte persone io per primo che utilizzano il portatile a schermo chiuso ok quindi in cui il portatile quando lo utilizzi in ufficio o in studio diventa una 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 cpu ok ad elaborazione basta ecco la scelta è molto è molto personale e è dettatissima in questa fascia qui dal budget e secondo te è appunto per per iniziare che budget potrebbe occorrere senza andare a prendere listini ma lavorando molto con le pinze considerando siamo il 2017 lo diciamo per chi vedrà questo video fra un anno o più anni insomma se c'è ci sarà ancora youtube se non se non si chiama youtube si chiama in altra maniera itube e lì dipende da che intendiamo cioè investire in solo macchina o un mini un mini studio no no io parliamo no eh sì parliamo sì qualcosa che mi consente di sballare accendere e partire lasciando stare i software quindi quindi a parte il software tutto l'hardware tutto l'hardware lasciamo stare ovviamente le casse il mixer i cavi la scheda non ne parliamo però quello che è monitor e interfaccia insomma quindi compriamo una macchina e un monitor per macchina intendo pc barra barra mac se stiamo nel mondo pc secondo me sotto alle 7 800 mille euro è troppo poco ok perché vuol dire che non abbiamo investito in una macchina che è sufficientemente performante e che ha la sufficiente quantità di ram per lavorare per esempio con i campioni che oggi esatto che è una cosa importantissima senza poter poter utilizzare campioni comunque siamo tagliati fuori da l'ottanta per cento dei software di produzione che esistono quindi con io un mille euro tra computer e monitor sia che prendo un portatile sia un desktop posso lavorare e anche anche nel mondo mac sui mille euro riesco a forse andare sull'usato in quel caso nell'usato sicuramente nel mondo dell'usato sicuramente e nel caso dei mac il mondo dell'usato ecco è consigliabile rispetto al mondo pc che comunque certo quello sì il mac non non si non si deprezza e no e dura di più per definizione non si deteriora insomma non si deteriora e sì perché la diciamo la stessa concezione tecnologica con cui è concepito il mac comunque anche se non ha l'ultimissimo processore quasi mai al processore di ultimo grido certo l'ultimissimo mac però è talmente ottimizzato è talmente diciamo concepito per far funzionare ogni componente con l'altro che ha una vita media quasi doppia ok rispetto a quella di un pc quindi prendere un mac di 45 anni fa e prendere un pc di 45 anni fa non è la stessa cosa ok meglio il mac ovviamente è decisamente il mac come come hardware come cose come espondibilità sono sicuro che nessuno l'ha toccato dentro è difficile che è stato modificato alla base gram non aggiungere che poi nei nuovissimi anche quello comincia a essere complicato perché ad esempio l'ultimissimo macbook pro ha proprio la ram saldata nasce e muore così non è possibile neanche aggiungere ram quindi quando ordinate se siete già del livello superiore una macchina che io reputo una eccezionale macchina per produrre che è un ad esempio macbook pro che è un portatile compratelo come lo volete nel momento della cioè configuratelo come lo volete nel momento dell'acquisto perché no ram aggiuntiva e no disco aggiuntivo ok quindi quella è una macchina che morirà così come la comprate facciamo lo step successivo diciamo con un migliaio di euro io prendo una macchina e ovviamente abbiamo detto non assemblati ma cose di marca o un apple che è quello se hai dei consigli per marche invece per pc sul quale affidarsi nella maniera migliore io per per conoscenza personale perché abbiamo servito tantissimi clienti con questa marca vado su hewlett packard quindi tutto quello che è hp enterprise il taglio adesso sapete che hp non è più un'unica azienda diviso fra fra mondo consumer quindi stampanti tutto quello che trovate ai supermercati ok per capire e il mondo enterprise che è appunto il mondo delle workstation tipo quella che che utilizzi tu e il mondo dei server il mondo aziende ok ecco tutto il mondo enterprise è è è un mondo che che si compra a scatola chiusa per per un'assistenza che è una delle migliori secondo me facciamo il passo successivo abbiamo detto chi vuole iniziare può prendere un una configurazione di quella che abbiamo detto a l'ultima cosa per eh chi inizia ram quanta ne prendiamo sotto a 16 a non mi muovere giustissimo quindi il per aiutanti windows dobbiamo utilizzare corso campioni certo determinati sistemi operativi perché adesso non sono non sono sono aggiornato ma alcuni sistemi operativi windows mi sembra che non supportano più di non supportavano più di 4 giga di ram oggi oggi beh chiaramente stiamo parlando sempre da windows 10 in su perché non tutti diciamo i sistemi per non 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 consiglio di acquistare macchine con sistemi operativi precedenti ok primo perché ad esempio xp ha proprio cessato completamente il supporto da parte di microsoft ma anche i sistemi operativi successivi tipo windows 7 windows 8 che non sono comunque più distribuiti quindi non avrebbero non avrebbero senso di esistere oggi oggi se si prende una macchina pc ci si installa windows 10 ok ormai windows 10 in sistema maturo e funziona benissimo anno domini 2017 giorno 12 febbraio chiaro mentre facendo quindi sotto i 16 giga non lasciamo stare insomma sembra che parliamo di produzione musicale e parliamo quindi chiaro stiamo parlando di questo perché tanto e ovviamente hard disk il quale consiglio non te lo chiedo nemmeno a tema lo dico io a tutti ha stato solido che è stata sulla mia macchina che pur essendo una macchina come ho detto vecchia del 2011 è stato l'aggiornamento che mi ha consentito di lavorare meglio mi ha consentito di lavorare meglio spendendo meno e decuplicando le capacità e le possibilità di questa di questa macchina io attualmente ho due macchine vecchie con una con una scelta rivivono automaticamente io ho due hard disk da un terra ciascuno uno per il sistema operativo l'altro per per i campioni più altre altre cose insomma che poi andiamo a vedere mentre diciamo per chi vuole fare uno step successivo quindi è un semiprofessionista oppure chi è un amatore che ha quel minimo di budget in più vuole spendere e avere una macchina ancora più performante ancora che gli consente più possibilità di lavorare meglio e più rapidamente per questa cosa importante dicevi non un pc tra virgolette normale ma una workstation come quella che oltre tutto ho io qual è la differenza tra un pc e una workstation di base perché a me pure non era chiara quando quando l'ho presa cioè mi è chiara dopo quando iniziava utilizzarla da quel momento sì allora la cosa principale la caratteristica principale che differenzia un pc da una workstation è che come dice la parola stessa la workstation nasce per essere una postazione di lavoro quindi non è concepita a livello hardware per un uso saltuario ma è nata per essere accesa molte ore al giorno esatto non è una cosa secondaria perché i condensatori tutti i componenti che 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 invadono la scheda madre di una macchina hanno una vita oggi lo sappiamo ma si è sempre saputo prestabilita quindi non una macchina non può durare all'infinito mentre un pc di uso desktop da ufficio è fatto per lavorare un certo numero di ore una workstation può lavorare un numero di ore estremamente maggiore rispetto a un pc sopra solo troviamo solo un server che nasce per stare acceso 24 ore al giorno sette giorni su sette 365 giorni l'anno che è la cosa che vi capiterà se fate i compositori di lavoro insomma se lo fate per lavoro questa macchina appunto con la quale sto lavorando e con la quale stiamo facendo questa video chiamata adesso è dal 2011 è accesa dalle otto ore 12 ore al giorno e oltretutto non sei giorni a settimana ma sette giorni a settimana e inclusi i festivi perché chi fa il libro professionista si occupa di di musica o di musica di cinema non ha ora non ha le ferie e non ha non ha orare insomma anche la bellezza di questo lavoro quindi questo non significa che un pc acceso lo stesso numero di ore esplode o smette di funzionare significa soltanto che non è stato concepito e progettato per funzionare così ok quindi se acquisto una macchina che voglio mi serva più tempo possibile voglio che nasca per quelli per quello scopo lì questo è il motivo primario di differenza tra workstation e pc poi ci sono altri motivi tipo l'espandibilità la quantità di porte che ha una workstation rispetto a un pc adesso tu aiutami la macchina tua quante porte usb a dunque almeno una tra cose l'altra tra otto e dieci due avanti un pc ne ha molte meno o all'epoca che l'hai acquistato tu ne aveva molte meno la quantità di di bei all'interno che ha una workstation è sempre maggiore a quella di un pc oggi è relativo infatti esistono workstation più piccole di quella che utilizzi tu però ecco primariamente il motivo è questo più ore accese al giorno diciamo ufficiali quindi concepite dal brand più espandibilità e un'assistenza più estesa che le workstation quasi sempre hanno di tutti i marchi e anche come risposta mi sembra cioè risposta da parte del produttore entro le 48 ore però ecco di default io posso anche avere la sostituzione del pezzo direttamente in studio entro quattro ore anche l'intervento entro quattro ore infatti questa è una delle cose che mi aveva convinto per la workstation cioè il fatto che nel momento in cui è un problema non risolvibile in famiglia non devo prendere smontare tutto scablare uno studio e portarlo all'assistenza qui e là o spedirlo addirittura che mi devo cercare che mi devo cercare oltretutto ma ho un'assistenza che mi viene mi viene direttamente a casa e mi risolve il problema in logo insomma un po' come se avesse un problema con la lavatrice ecco parlandoci parlandoci chiaro questa è una cosa fondamentale poi come aggiunto ovviamente io consiglierei in questo caso essendo le workstation non dei portatili ma delle macchine ovviamente desktop correggimi se sbaglio non può assistere è considerata workstation anche una un notebook diciamo di pari livello può essere considerata workstation mobile sì però ecco sì la workstation per definizione è quella lì io aggiungerei l'unica cosa un a meno che in alcune workstation non è già presente un una scheda audio che dà la possibilità di avere il doppio doppio schermo insomma questo per per praticità se inizierete a lavorare col doppio schermo non ne potrete fare più a meno perché iniziate a ragionare proprio in una maniera diversa diciamo a livello di organizzazione degli spazi perché poi andiamo verso software sempre più complessi e gli spazi anche sullo schermo sono come gli spazi di un di un'officina insomma più faccio lavori complessi e professionali più avrò bisogno di spazi fisici e il nostro spazio fisico quello che vediamo chiaramente chiaramente sullo schermo quindi facendo lo step successivo abbiamo queste workstation sempre mi consiglio di di dire la l'hp appunto in questo caso e la macchina che io ho adesso che è una macchina appunto del 2011 ti ho mandato le primi dettagli così abbiamo un attimo recuperato di cosa si trattava se io dovessi aggiornarla adesso che nel 2017 tu a una persona che ti fa una domanda del generale cosa consiglieresti cambiare macchina dopo sei anni sì che tipo di vita quindi una vita di cinque sei anni secondo te una macchina professionale allora sì sempre per lo stesso motivo perché la manutenzione del brand su quella macchina non è più cioè è scaduta non è più parte la macchina sì cioè è possibile che io chieda un'assistenza per quella macchina ma l'avrei a pagamento l'avrei dovendo investire comunque dei soldini che se li investissi subito sulla macchina nuova già avrei una copertura di almeno tre anni subito insieme all'acquisto quindi la media di tre quattro cinque anni per una workstation è è giusta ok e chi dovesse invece indipendentemente dal dal pc che ha chi dovesse cercare qualche prestazione in più dal dal proprio dalla propria macchina tu cosa consigli a parte abbiamo detto gli hard disk stato solido insomma che sono già si trovano a prezzi bassi anche su su ovunque su amazon in giù insomma cos'altro consiglieresti consiglierei ram veloce consiglierei di acquistare banchi di ram vedendo chiaramente che tipo di tecnologia ram supporta la macchina la macchina che che avete investire sulla ram che sia ram veloce che sia ram il più possibile certificata quindi di di compatibilità certificata sì o di marca o di compatibilità certificata con la marca del della macchina che avete questo è importante vederlo perché solito prendiamo la ram che a parità di di quantità di ram costa meno invece devo andare un po a approfondire il sì e se parliamo di una macchina per lavoro come stavamo dicendo nessuno si sognerebbe mai di mettere che ne so un motorino d'avviamento sul furgone che utilizza per lavorare preso da non so da un rigattiere certo no tanto devo avere uno uno strumento di lavoro che che sia affidabile e quindi i componenti che che lo compongono lo devono essere e secondo te esistono possibilità e se sono convenienti di parliamo appunto per i semi professionisti per i professionisti di non acquistare la macchina ma di averla tipo in leasing oppure in affitto cioè senza dover a questo punto pensare a niente cioè secondo te è una cosa che ha a lungo termine un'utilità oppure è solo destinata appunto agli zimmer che entrano in studio dove tutto così com'è e senza avere un minimo sospetto nemmeno lontanissimo di un crash di sistema lontano allora per loro per loro è fondamentale cioè come noleggiare un'automobile o prendere leasing un'automobile se se sono un professionista oggi è una scelta quasi obbligata quindi non acquisto ma sì sempre per il discorso che dicevamo prima per non doversi accollare poi i costi di manutenzione e gestione di un strumento che inizia a deperire dal momento stesso in cui lo accende ok quindi già quella è nascita i primi lì conta conta un po' gli step che dicevamo prima se siamo amatori magari andare a noleggiare uno studio mettere in piedi uno studio pagando una fee mensile dove magari per 4 5 mesi lo utilizzo poco nulla non lo so poi dipende dipende un po' da voi la scelta che dovete fare è qual è lo scopo se metto in piedi una 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 infrastruttura una soluzione che so da qui a sei mesi da qui un anno dovrà iniziare a produrre dovrà iniziare a a farmi fatturare e quindi a farmi rientrare della spesa uno fa un calcolo stupidissimo vede qual è la 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 previsione di dell'introito no certo applica il discorso investo 100 200 300 400 euro al mese e so che li potrò coprire però sono un amatore ancora non so da dove andrà a finire questa cosa magari prima vale la pena acquistare una una piccola demo station che mi faccia capire per fare qualcosa insomma eh sì eh sì benissimo io penso che abbiamo un po' esaurito tutte le domande principali poi l'argomento è talmente vasto è talmente in in evoluzione che è difficile mettere un uno stop c'è qualche altro consiglio che ti senti di di dare a chi deve acquistare una macchina o deve fare un delle scelte del genere forse l'ho già detto ma lo ripeto chi vi dice questa è la macchina perfetta per il produttore musicale come lo sei tu costa così e poi non dovrai mai acquistare più niente quasi sempre ehm parla senza sapere quello che dice ok quindi se se non se nessuno vi ha chiesto cosa fate qual è il software che utilizzate qual è il vostro budget di spesa qual è il lo scopo siete dei professionisti o no eh andrete a guadagnare da quello che fate o no non non può darvi una risposta basata sul nulla quindi a spendi 5.000 euro per questa cosa qua l'accendi e vai tranquillo anche no allora quindi ci sono una marea di siti sotto in nei states che vendono sistemi completi che ti dicono eh fai l'ordine lo apri lo accendi si si cioè perché ci sono già installato il sistema operativo ci sono già i vst installati perché non vi vogliono far perdere tempo avete un blocco uno scatolone dove tirate fuori tutto e iniziate a suonare sicuramente magari qualitativamente è eccezionale sicuramente però eh diciamo che eh avranno una durata molto limitata perché già quando andrete a installare un vst piccolino nuovo anche un aggiornamento già ti va a rompere un equilibrio che il produttore eh diciamo ti ti impone perché è una macchina veramente chiusa allora sì a quel punto è come chi acquista una tastiera se acquisti quella tastiera sapendo che i suoni sono quelli e per tutta la vita utilizzare quelli prendete queste macchine senza considerare il problema che eh anche degli utenti che mi hanno scritto e che hanno avuto che hanno acquistato da questi eh produttori sono produttori serissimi eh eh parliamoci chiaro sono stra professionisti però eh nel momento in cui hanno avuto un singolo problema sono stati problemi enormi perché poi l'assistenza ovviamente eh da oltreoceano è una cosa complicatissima complicata scegliete brand noti e brand che hanno eh una una un'estesa un'estesa rete di di centri d'assistenza o centri autorizzati o di assistenza a domicilio in Italia o dove state voi quindi HP eh alla grandissima eh cristiano ti ringrazio per la consulenza preziosissima eh ciao cristiano ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video di composizione digitale domande fatele sulla pagina facebook ciao 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 ciao